L'acqua è un diritto Ciao Il 10 dicembre del 1948, ovvero 70 anni oggi, veniva firmata la Dichrazione Universale dei Diritti Umani e il 28 luglio del 2010 l'acqua viene inserita come un diritto umano universale e fondamentale. La risoluzione sottolinea ripetutamente che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, più degli altri diritti umani, concede la dignità della persona e l'essenziale al pieno godimento della vita e fondamentale per tutti gli altri diritti umani. La risoluzione però non è vincolante, ovvero afferma un principio che ancora raccomanda ma non obbliga gli Stati ad attuare iniziative per garantire a tutti acqua potabile di qualità, accessibile e a prezzi economici. Come ho detto nel video precedente, l'essere umano è fatto al 99% di acqua e tu ancora ti ostini a comprare acqua in bottiglia di plastica e a cucinare con un'acqua che può essere certamente potabile ma solo perché rispetta dei limiti che vengono aumentati quando non si riesce più a contenere l'acqua all'interno di quei limiti. Pensi di non poter far nulla? Inizia col fare qualcosa per te. Con questo video è tutto. Sai che ci occupiamo di impianti di purificazione d'acqua e di sanificazione ambientale. Se vuoi informazioni sui nostri prodotti, i nostri contatti li trovi sullo schermo. Ciao e al prossimo video!